Il turismo è un settore in crisi come molti altri in questo momento, ma la Regione ha deciso di investire. Intanto devo dire che il nostro sistema turistico, Emiliano Romagnolo, sta dando segnali, poi faremo il bilancio alla fine della stagione naturalmente, ma sta dando segnali di vera capacità di tenere a fronte di una situazione così difficile che riguarda le famiglie di questo Paese. Perché? Perché ha una forte flessibilità, un rapporto qualità-prezzo molto competitivo e dunque pensiamo di avere una forza attrattiva molto significativa. Detto questo, stiamo e abbiamo deciso di dare un segnale molto chiaro ai nostri operatori, cioè investiamo sul turismo. Per questo mettiamo risorse, 8 milioni di euro per la qualificazione turistica sulla legge che sostiene gli operatori privati in relazione ai loro investimenti. Noi lo facciamo oggi perché vogliamo dare un segno di speranza, la crisi si dice anche opportunità. Noi vogliamo mettere in condizione gli operatori di interpretare questa opportunità e quindi ci affianchiamo loro e li aiutiamo.